Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Aveva occupato lo spazio che fino all'inizio del 2018 spettava dalla vostra parte, l'altro talk di Barbara Palombelli È arrivato il momento di voltare pagina anche per quanto riguarda stasera Italia e lo riferisce anche TV Blog Adesso Da giorni se ne discuteva, lo sciocchiude i battenti e, al suo posto, Nicola Porro che prenderà in mano una trasmissione per il momento ancora del tutto inedita o, almeno, così sembra Si prospettava più che altro una sostituzione di conduzione e si immaginava già il conduttore di Quarta Repubblica al posto di Barbara Palombelli Ma invece, come si legge sul sito citato, stasera Italia non ci sarà più nei prossimi palinsesti di Rete4 In arrivo Nicola Porro con un nuovo programma televisivo, del tutto rivoluzionato nell'aspetto e nel nome rispetto a quello che gli spettatori fino a oggi hanno seguito Barbara Palombelli perde il suo programma, la decisione di Rete4 Gli ascolti cominciavano a calare e, nonostante sia sempre molto amata e soprattutto per la conduzione di Forum e lo sportello di Forum, Barbara Palombelli occupava quella fetta televisiva da troppo tempo e, come per altri format, è giunto l'ora di cambiare La fascia in estate sarà occupata da controcorrente per poi dar posto ad un inedito show tutto di Nicola Porro, che resterà comunque pure a Quarta Repubblica Quando, cinque anni fa, Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi in un giorno, io l'ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica È stato come fare una maratona. L'abbiamo fatta. Il divertimento di stasera Italia per me finisce qui, aveva salutato così i telespettatori Barbara Palombelli e questi avevano creduto ad un suo addio Gli addi, invece, sono due, il suo e quello del talk show politico Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao